Questo è l'ingresso della casa, col portasci, armadio a muro, ci si mette in una saletta di accoglienza dove facciano le porte della camera da letto e del bagno, un ampio bagno con doccia, questa è la sala invece, la zona pranzo, l'angolo cottura, il terrazzino, ampio, dove si può comodamente prendere il sole, la padrona di casa e la veduta del Monteviglio. Torniamo indietro sui nostri passi per andare a rivedere la sala d'ingresso con due poltrone letto, la camera da letto e nella sala ricordo che ci sono tre posti letto, un estraibile e due divani letto per un totale di sette posti letto.